Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di No Edit, il format in cui non c'è edit ma metto le storie, raccontate così, come le dico sul momento. Questo è il microfono giusto? Parrebbe di sì. Scusatemi per l'episodio precedente in cui ho cannato l'impostazione e ho registrato con l'orribile microfono incorporato nella webcam. Allora, siamo arrivati al capitolo 7 del racconto chiamato Scelte di Glenn Vesey, ormai lo so a memoria, giusto? Glenn Vesey, sì, l'ho detto giusto. Andiamo avanti, buon ascolto. Un tonfo soffocato, seguito da un lieve suono raschiante. Lo stesso rumore ripetuto, goffo, intermittente, insistente. Una serie di rumori simili che giungeva da un punto leggermente diverso. I rumori raddoppiarono di intensità. Triplicarono. Il cuore di Dawson batteva già impazzito prima ancora che i suoi occhi si aprissero. Questa volta non ci fu nessun pietoso vuoto di memoria, nessuna ricerca oziosa del comodino e della sveglia. Prese immediatamente coscienza della sua situazione disperata, ascoltò con gli occhi sbarrati. Ci fu uno schianto secco di legno che si scheggiava, poi un suono stridente, come se un oggetto pesante venisse spinto sul pavimento di legno e pian terreno. Per qualche motivo Dawson non riusciva a muoversi. Le prime emozioni di cui ebbe coscienza furono l'ira e l'indignazione. Stavano invadendo il suo sancta sanctorum, stavano dimostrando che il suo senso di sicurezza era falso, stavano dimostrando che lui era un idiota. Poi venne la paura e tutte le altre emozioni perse lo significato. Era in trappola. Al giudicare dei rumori erano già in troppi all'ingresso di sotto, troppi dentro l'ingresso. Nei ristretti confini della casa non restavano vie di scampo. Nonostante i movimenti maldestri, il loro semplice numero lo avrebbe sopraffatto. Da dove erano arrivati così di colpo? Finalmente riuscì a schiodarsi dal letto e andò alla finestra per guardare fuori. Tenebre. Dentro le tenebre cinque figure più scure. No, sette, che si muovevano barcollanti verso l'ingresso sfondato della casa. Otto, no, nove. Un suono sotto i suoi piedi indicò che il primo era inciampato contro la base della scala. Seguivano il suo odore. Fuori erano già in undici. Infilò a fatica le cinghie dello zaino, imprecando contro la propria goffaggine. Poi tornò verso la finestra. Altri stavano arrivando fra gli alberi. Diversi erano scomparsi dietro all'angolo della casa. Sporse le gambe oltre il davanzale e si chinò su se stesso per far passare la testa. Quando cercò di sedersi sul davanzale, lo zaino urtò contro il battente superiore della finestra, facendolo quasi cadere. Si chinò di nuovo per liberare lo zaino e rimase appollaiato lassù, frugando con lo sguardo il buio sottostante. Uno dei divoratori di cadaveri nel cortile sollevò gli occhi e lanciò un suono gutturale. Un altro si voltò verso di lui e seguì il suo sguardo fino alla finestra. Dietro di sé, Dawson sentiva lo scrittorio che veniva spinto lentamente da parte. Fece il salto. Un istante di libertà. La caduta. Il movimento nell'aria umida della notte. Una sensazione di velocità. Dolore. Caviglie, gambe, spina dorsale, stomaco, costole. Dolore. Bianco, nero. Dolore. Rosso, bianco. Dolore. Tutto dolore. Nient'altro che dolore. Poi un pensiero giunse strisciante. Non posso camminare, non posso correre, non posso scappare. Poi, in risposta. Se non posso camminare, non possono farmi diventare come loro. Non sarò un predatore. Una piccola vittoria. Un minuscolo successo. Doveva cercare di accontentarsi di quello. Poi riaprì gli occhi. Forme scure oscillavano intorno a lui, facendosi sempre più vicine. Visi contorti, vuoti, in ombra, bocche squarciate dai denti famelici, pronte a esigere il loro orribile tributo. No! Fece leva contro lo stesso dolore e si rialzò. Allontanandosi dalle figure avanzanti e andando a sbattere contro qualcosa di pesante, di molle e putrescente. Un grugnito d'aria, non dai suoi polmoni, un fiato caldo, fetido, contro la sua guancia. Lanciò un urlo e roteò il gomito verso l'alto, facendogli compiere un arco. Lo sentì affondare nella morbida sostanza della creatura che cadde all'indietro. Dawson scalciò una volta, inutilmente, verso quel viso distrutto e per poco non gli cadde addosso. Poi urlò di nuovo e cominciò a correre. Mentre l'alba filtrava timida nel bosco privo di sentieri dove lui si muoveva, Dawson pensò di stare ancora correndo. E invece no. La sua andatura sussultante non era più veloce della passeggiata mattutina di un anziano signore. Era il massimo che poteva fare. Il solo fatto di continuare a camminare richiedeva ogni suo sforzo fisico di volontà, ma lui non voleva fermarsi a riposare. Finalmente notò la luce che si faceva più forte tutt'intorno. Decisi allora di lasciare la copertura degli alberi per il cammino più facile lungo la strada. Più tardi udì un suono. Una parte della sua mente era certa di poter riconoscere quel suono, di poterlo identificare facilmente, ma Dawson non ci riuscì. Quasi tutta la sua mente era ancora intrappolata nelle tenebre di quella notte, a rivivere gli istanti in cui le sue mani avevano allontanato carne putrida dal viso, mentre dietro di lui altre mani si allungavano per attirarlo più vicino. Le sentiva ancora là, dietro le sue spalle, che si facevano sempre più vicine e brancolavano per afferrarlo. «No!» Rabbrividì. «No!» Ripetè poi con un gemito. Fissò per un istante il sole, ormai alto sopra l'orizzonte, chiedendosi se avesse ancora qualche significato per lui, se ci fosse qualcosa che poteva dedurre o scoprire dalla sua esistenza o dalla sua posizione. Poi il suono si rifece vivo, e lui ricordò cosa significava. Era il ronzio lontano di un'auto. Si stava avvicinando da dietro le sue spalle. Si girò verso la strada proprio mentre il veicolo diventava visibile, sbucando da una curva lontana. Era un camioncino Ford Blue, e si muoveva veloce. Per un attimo rimase a fissarlo, poi, con un grande sforzo e con un senso di trepidazione che non comprendeva del tutto, allungò il braccio destro e aprì la mano, implorandolo di fermarsi, implorandolo di salvarlo. Dopo pochi secondi, fu abbastanza vicino da permettergli di vedere chiaramente la canna di un fucile da caccia che sporgeva dal finestrino del passeggero. Era puntata dritta contro di lui. Si gettò a terra nello stesso istante in cui il tuono della detonazione lo avvolse. Il dolore lo tramortì. Si domandò se sarebbe riuscito a rialzarsi ancora, o se avrebbe dovuto restarsene disteso lì a dissanguarsi lentamente. Poi si accorse che il dolore non era così localizzato come doveva essere. Lo avvertiva in tutto il corpo. Non era stato colpito, ma aveva risvegliato ogni ferita ricevuta quando era saltato dalla finestra. imprecò contro i suoi assalitori, pianse per sé stesso e restò steso a terra come un sacco di stracci. Quando finalmente si rialzò per riprendere il cammino, scoprì con sua grande sorpresa, a neppure tre metri da dove si era gettato a terra, un corpo riverso sulla spalletta della strada. Dal cranio spaccato colavano fluidi che ricordavano solo in modo molto vago il sangue umano. La pelle verdognola lo identificava più chiaramente per quello che era. Quando lui si era voltato per fare segno al camioncino, il corpo non c'era. Di questo Doson era certo. Allora capì che il bersaglio non era stato lui, almeno non quello delle persone sul camioncino. Loro gli avevano anzi salvato la vita. Si allontanò di corsa. Capitolo 8 Cerca di rilassarti ora. Viviamo poco lontano da qui, giù lungo Pitney Road. Oh, che stupida sono. Voglio dire, Tu non sei di queste parti, vero? Non puoi sapere. Pitney Road non significa nulla per te, vero? Doson non rispose. Sentiva le parole della donna al suo fianco, ma non andava oltre. Era incapace di ascoltare quelle parole o di comprenderle. Non gli interessavano neppure. Aveva la mente a pezzi, sparpagliata in un milione di frammenti. La donna era sulla trentina. Dava l'impressione di essere stata molto bella, anche se in un modo un po' antiquato. Forse lo era stata fino a non molto tempo prima, ma il suo non era quel tipo di viso che sapeva reggere con grazia l'ansia e i brutti colpi, e le recenti esperienze avevano lasciato il segno su di lei. Doson aveva notato ben poco di tutto questo. Era troppo assorbito dal caledoscopio dei frammenti che un tempo erano stati la sua anima. Per ognuno di quei frammenti vedeva una mano scura che si allungava per prenderlo, minacciando di frantumarlo in pezzi ancora più piccoli. Era scosso da brividi. Guardava fuori dal finestrino aperto dell'auto, un'auto alla quale non aveva nemmeno fatto cenno. si era semplicemente allontanato dal ciglio della strada per guardarla passare con occhi guardinghi, e comunque si era fermata. Ma i frammenti in movimento e le mani che si allungavano, quelli non si fermarono. Erano l'unica cosa che riuscisse a vedere. Cazzo ti ha cercato. Assorbivano tutta la sua attenzione. È una bella zona, o meglio lo era. È piuttosto appartata e l'abbiamo protetta molto bene. Me ne sono occupata io stessa. E benché non sia mai stata un mago con gli arnesi e i lavori manuali, posso garantire che è un posto sicuro. George sarebbe molto fiero di me. Voglio dire, sarà molto fiero quando la vedrà. Ci fu un breve silenzio. Abbiamo anche delle armi. George andava matto per la caccia. Così ci sono diversi fucili in casa. Sono diventata piuttosto brava. Ho fatto molto allenamento e... Beh, in un paio di occasioni ho dovuto usarli. Così so di potermela cavare in caso di bisogno. Un'altra pausa. Mentre lanciava un'occhiata all'espressione vacua di Dawson. Quello che sto cercando di dire è che da noi si è al sicuro. Voglio dire, saresti al sicuro anche tu se decidessi di fermarti per un po' con noi. Voglio dire, finché non ti sarai ripreso. Voglio dire, molto più al sicuro che a startene lungo la strada come quando ti ho trovato. Anche perché mi pare che tu abbia bisogno di un po' di riposo. A noi non darebbe nessun fastidio. Vero, Kirsten? La bambina di sei anni, pionda come la madre, sedeva silenziosa sul sedile posteriore succhiandosi il pollice e fissando la nuca dello sconosciuto. Sua madre non si era aspettata una risposta e non attese di riceverla. Si finisce col sentirsi un po' sole a starsene isolate lassù aspettando che papà torni a casa. Sarebbe bello avere un visitatore per un po'. Sarebbe bello avere un altro adulto con cui scambiare quattro parole. Tanto per cambiare. Capisci cosa voglio dire? La donna guardò di nuovo Dawson. Poi tornò a concentrarsi sulla guida mordendosi un labbro. E solo che, sai com'è, voglio dire, di solito non raccolgo mai autostoppisti o almeno non l'avevo mai fatto fino ad oggi perché, beh, adesso le cose sono diverse. Ho subito visto che eri vivo e allora ho pensato, se George stesse camminando lungo una strada per tornare a casa, vorrei che qualcuno gli passasse vicino senza fermarsi solo perché non lo conosce? No, vorrei che qualcuno si fermasse e lo aiutasse. Voglio dire, con tutta la gente che è morta e da come tutti gli altri superstiti sembrano essere rimasti sparpagliati in giro per il paese, se si dovesse aspettare il passaggio di qualcuno che si conosce per avere un briciolo di auto ci sarebbe da aspettare un bel pezzo. Il solo fatto di essere ancora vivi significa già molto, significa che siamo tutti nella stessa situazione, quindi dovremmo cercare di aiutarci a vicenda, dovremmo almeno provarci, non credi? I suoi occhi erano gonfi di lacrime quando si voltò nuovamente a guardarlo, il viso tirato in una smorfia. Tannazione! Perché non dici qualcosa? Dawson si girò a guardarla e sbatté le palpebre. Lei riportò lo sguardo sulla strada, asciugandosi le guance con le dita della mano destra. Mi dispiace, disse lui, e benché la sua voce fosse spenta, riuscì in qualche modo a trasmettere un rimpianto sincero e profondo. No, no, è colpa mia, è solo che... Oh, non lo so. Siamo arrivati! Lei tirò il freno a mano, poi si sporse nell'abitacolo, verso Dawson. Lui si rattrappì nervosamente sul serile, reso perplesso dal suo movimento. Quando la donna aprì lo scomparto del cruscotto e ne tirò fuori una pistola, lui capì e si rilassò. Lei sbirciò intorno all'auto. Adesso non vedo loro tracce qui in giro, ma non si può mai sapere. Dovremmo essere prudenti quando entreremo. Quando esco a cercare provviste, non chiudo mai a chiave la porta d'ingresso. Si girò verso Dawson. Ti sembra un comportamento idiota da parte mia? Dawson scrollò il capo di una sola volta, incerto se quella fosse la risposta giusta, ma desideroso di darle qualcosa. Penso sempre che se Kirsten e io non siamo qui, allora non c'è nulla che possa tirarli. Non credi che sia vero? Che in qualche modo riescano a sentire la nostra presenza e inseguirci, e che se qui non c'è nulla da sentire dovrebbero lasciare in pace la casa? E poi c'è un altro pensiero che non riesco a togliermi dalla testa. Se George tornasse qui e non avesse più la sua chiave, voglio dire, in tempi simili non si può pretendere che un uomo resti attaccato alla chiave di casa e trovasse la casa tutta sbarrata? Non penserebbe che siamo partite o morte? Magari si arrenderebbe, se ne andrebbe per sempre. Oppure se lo stessero inseguendo e lui dovesse entrare subito in casa ma la porta fosse chiusa, la sua voce si spense, mentre dava un'altra occhiata al mondo che circondava l'auto. E non voglio lasciare un biglietto sulla porta, mi sembra troppo pericoloso. Non credo che loro sappiano leggere ma ci sono altri che sanno ancora farlo, quelli che sono rimasti vivi, e so che alcuni di loro guardò Dawson. Beh, quello che voglio dire è che non mi fido di chiunque, non posso. Tornò a guardare la casa. Allora lascia un biglietto sul frigorifero, così se dovesse tornare mentre siamo fuori saprà di doverci aspettare. Chinò lo sguardo sulla pistola che reggeva in grebo e cominciò di nuovo ad asciugarsi le lacrime. Da diversi minuti gli occhi di Doso non si staccavano dal suo viso, ma fu solo in quell'istante, di colpo, come se qualcuno avesse fatto scattare un interruttore in qualche stanza lungo abbandonata nella sua mente, che la vide per la prima volta. Nonostante la stanchezza e i recenti insulti del tempo, improvvisamente lei apparve bellissima. Avrebbe voluto toccarla, o parlarle, ma scoprì di non poter fare nessuna delle due cose. «Scusami, devo sembrare una vera idiota a blaterare in questo modo, è solo che...» si interruppe. «Sarà meglio entrare». Lei scese dall'auto, cercando tutto intorno qualche segno di movimento. Doso e Kirsten fecero lo stesso. Si spostarono verso il retro dell'auto e raccolsero diversi sacchetti depositati nel portabagagli. «Dovremmo frugare ogni stanza una volta entrati e posati questi», gli disse lei. «Quelle è sempre la parte peggiore, anche se fino ad oggi non ho mai trovato sorprese». Dozon seguì silenzioso la donna in cucina e posò i suoi sacchetti sul tavolo. Kirsten restò indietro, sedendosi sul divano del soggiorno, dove i due adulti potevano ancora vederla. I gesti e l'atteggiamento della bambina diedero a Dozon l'impressione che tutto facesse parte di una procedura familiare e immutabile. Una volta seduta la bambina, rimase immobile come una statua, succhiandosi il pollice e fissando la madre e lo sconosciuto. «Sembra che qui dentro non ci sia entrato nessuno!» Gli occhi della donna esplorarono metodicamente la cucina, fermandosi su un biglietto fissato al frigorifero con una banana magnetica. «Né amici, né nemici!» lo disse con un sospiro, ma cercò di sorridere a Dozon. Lui notò che le sue spalle non si incurvavano, come si era aspettato. Se non altro, ora la donna pareva più fiduciosa, più sicura e decisa di prima. Adesso era a casa, era al sicuro, pronta a ricaricarsi e a fare qualunque cosa fosse necessaria. Dozon rimase sbalordito, tanto dal suo cambiamento quanto dalla causa apparente. si chiese quanto tempo fosse passato dall'ultima volta che gli era capitato di pensare che il concetto di casa potesse ancora avere un significato reale per qualcuno. La osservò con attenzione mentre il suo viso assumeva un aspetto meno tirato e sofferente e lei ritornò bellissima ai suoi occhi. Più di prima. Mentre lei esalava un sospiro più profondo, Dozon si sentì respirare il suo stesso ritmo. Dinanzi al suo esempio, anche lui sentì di affievolirsi le tensioni che lo attanagliavano. Sentì le mani scure allontanarsi e lo strano rimescolio interno di una misteriosa ricostruzione che iniziava nei suoi angoli più intimi e profondi. Lei lo fissò con occhi al tempo stesso solenni e luminosi. Devo ancora controllare le altre stanze. Vuoi venire con me? Fissandola negli occhi. Lui annuì. Lei sorrise. Grazie. Dozon chinò lo sguardo e vide la pistola che lei impugnava. Rabbrividì, pensando allo stato spaventoso cui il mondo si era ridotto. Passarono diversi secondi prima che riuscisse a sollevare gli occhi per incontrare di nuovo i suoi. Un tonfo pesante dall'alto delle scale, come se qualcuno avesse lasciato cadere un sacchetto di zucchero da tre chili, fu seguito all'istante dall'urlo acuto di Kirsten, pieno di una gioia incomprensibile. Papà! Kirsten, aspetta! Doson si voltò giusto in tempo per vedere la bambina alzarsi di scatto dal divano e sparire in direzione delle scale. Poi la donna lo superò con un balzo inseguendo la figlia. Doson la seguì, ma dopo tre rapide falcate fu costretto a fermarsi appena dentro il soggiorno per evitare una collisione con lei. Il corpo della donna si era irrigidito. Lui seguì il suo sguardo verso le scale. Gli istanti seguenti trascorsero come ore, concedendo a Doson l'indesiderata opportunità di assorbire ogni particolare. Sulle scale c'era una cosa che una volta era stata un uomo. Le sue mani erano chiuse intorno alle spalle della bambina. Kirsten, sopraffatta dalla paura della repentina scoperta, scalciava e urlava lottando in vano per liberarsi mentre il divoratore di cadaveri la sollevava verso la sua bocca contorta in modo grottesco. La donna sollevò la pistola con entrambe le mani tremando violentemente. Fermo! La sua voce era isterica. Per amor di Dio, fermo! I denti lacerarono il morbido candore. Del collo della bambina. Uno schizzo scarlatto imbrattò il viso dell'essere e colpì la parete accanto. L'urlo della bambina si spense in un gorgoglio mentre risuonava il primo sparo. Una rosa color borgogna cupo si aprì sulla fronte del divoratore di cadaveri strappando il suo viso dalla preda e costringendolo a restare eretto. Un'espressione di stupore idiota gli balenò negli occhi un istante prima che roteassero all'insù mostrando solo il bianco. La pistola sparò ancora. Brandelli di guancia e schegge di osso colpirono la parete. Ancora! L'essere crollò all'indietro sui gradini e la bambina gli cadde pesantemente sul petto. Il corpo di Kirsten cavalcò quello del divoratore di cadaveri in un'atroce parodia di un gioco fa padre e figlia. Poi scivolò lentamente giù per i gradini con le braccia e le gambe piegate in fuori. Ancora la pistola tuonò! Ancora! E poi ancora! Il corpo sussultò sotto l'impatto dei proiettili. Poi ci fu solo lo scatto ripetuto del percussore che colpiva cartucce scariche. Due volte. Cinque volte. Sette. La pistola cadde sul pavimento seguita rapidamente dalla donna. Dawson sentì un urlo nascergli nelle viscere un grido che annaspava lottava rimbalzava verso l'alto spinto dal panico alla ricerca di una via di fuga ma incapace di trovarla. Emise un gemito da cane bastonato e strappò gli occhi dal quadro di carne grottesca e insanguinata sulle scale. guardò la donna distesa ai suoi piedi. Aveva una guancia posata pesantemente sul tappeto e gli occhi chiusi. Braccia e gambe erano allargate come quelle di un burattino dai fili spezzati. Dawson fissò la schiena che si alzava e abbassava in modo irregolare seguendo il ritmo discordante del suo respiro. Poi lanciò un ululato pietoso bizzarro e a grandi passi barcollanti si lanciò verso l'uscita. Fuori si inginocchiò in giardino a vomitare per quello che gli sembrò un tempo eterno. Quando fu svuotato lanciò un'ultima occhiata alla casa e corse via. Bene, questi due capitoli mi hanno soddisfatto maggiormente almeno la storia si è sviluppata un po' di più e ci sono stati anche dei colpi di scena e delle scene d'azione tragiche che almeno tengono vivo l'interesse per questo racconto. A questo punto mi rimangono solamente due capitolini due mini capitoli e questo racconto può dirsi bello che è finito. sono precisamente 216 sono precisamente 16 pagine che ci separano dalla fine del racconto che vi narrerò nel prossimo episodio di No Edit. Fatemi sapere prima di tutto se vi sta piacendo questo racconto se vi sta piacendo la mia lettura e soprattutto se mi avete perdonato per il precedente episodio che aveva l'audio di schifo. Grazie come sempre e buona giornata.